Il corso di laurea magistrale in scienza gradi ambientali in classe LM69 consente agli studenti di acquisire conoscenze e compotenze approfondite e specialistiche relative alle produzioni vegetali e zootecni. Finalizzate alla progettazione e gestione dell'innovazione della produzione agraria, qualitative e quantitative, il tutto con un approccio sistemico tale da coniugare conoscenze ed esigenze biologiche con risorse azientali e territoriali, di mezzi tecnici e sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Con la laurea magistrale in scienza gradi ambientali, gli sbocchi professionali sono molteplici. Tra questi ricordiamo la ricerca e la docenza nella scuola superiore ed università, l'attività di agronomo presso enti pubblici e privati, la direzione e la gestione di grandi aziende del territorio, la progettazione e gestione di investimenti in grandi imprese, la direzione di interventi di controllo delle avversità in campo, la gestione di interventi di tutela ambientale, oltre che la direzione in azione sull'intera filiera agroalimentare e la consulenza agronomica per aziende pubbliche e private. In aggiunta a questo, l'imprenditoria, l'attività di imprenditoria agraria è la possibilità di iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e di dottori forestali nella sezione senior con l'acquisizione di tutte le competenze previste per i dottori agronomi che sono molteplici.